Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Noi maschi siamo qua, tutti mani in mano. I maschi qua non hanno mai visto una film. Sembra che fosse uscito bene lui. Buongiorno. Buongiorno signorina, buongiorno signori. È buona tutta. Sono Matilde, vengo da Fiorenzola d'Arda, in provincia di Piacenza. Sono una grande festaiola, mi piace fare festa e soprattutto è casino. Piacenza? Qualcosa di un po' più serio di lei? Va a scuola ogni tanto? Vado a scuola, faccio parrucchiere estetista. Signorina ricorda ai signori, vi prego di compilare il questionario che vi sarà dato e poi avremo un colloquio tutti e tre insieme e poi prenderemo una decisione sulla missione della signorina. Voi ragazzi intanto potete iniziare le vostre lezioni. Alla te. Grazie. Ho fatto ammettere. Spero che è una festaiola come ha detto perché, boh, mi pare. Se non mi va d'accordo con noi perché fa casino. Fai casino? Perfetto. La nuova arrivata promette bene. Sembrano simpatici. Spero di andarci d'accordo. Se i ragazzi confidano nel suo ingresso. Oh raga, se gli serve un tutor, levate il c***o. Se gli serve un tutor d'aiuto, lo vogliono redigare. Mi piace. Oh, facci stare. Carina la ragazza. Le ragazze sono più diffidenti. Non l'avete struccata? Ma dai, c'è uno che ti saluta. Sono gelose. Sono gelose. No, se fai casino diventi nostra amica. Dai che facciamo casino! O mi sa simpatica oppure ci ritico pesantemente. Boh, ma è figa, però... Cioè vuole far vedere che quella festaiola ma poi è una santa di mer... Forza! ... ... ... ... Grazie a tutti